Ma io non lo sto dicendo, glielo sto chiedendo, non è niente di confermativo. Si seguono le leggi dello Stato italiano, questo è uno Stato per fortuna democratico, regolamentato dalle leggi. Almeno si può dire, si può dire. Ho mandato i documenti all'antitrassi, l'antitrassi però deve decidere, deve dirmi. Sgarbi ha rispettato le leggi, secondo lei o no? Ma non lo so, lo deve dire l'antitrassi, io non faccio il magistrato, non faccio il polizionale. Alla sua fiducia al sottosegretario, Presidente, Fatto Quotidiano, Sgarbi si deve dimettere dopo le notizie che abbiamo pubblicato? Beh, ho letto le inchieste, insomma, se sono corrispondenti non mi sembra assolutamente consentito a nessun membro del governo, ministro o sottosegretario. Quindi sì, sì. Le regole si rispettano, rigorosamente. Quindi si deve dimettere. Direi di sì, se queste sono le circostanze. Sgarbi si deve dimettere? No, posta così non va bene. Non va bene perché noi abbiamo legittimamente un quotidiano, seguito da altri, che ha dei documenti su quello. È giusto che il diretto interessato che su altri giornali dice che non è così. Allora, si vedono bene le carte laddove ci fosse, se non un conflitto di interesse, una situazione che non è, come dire, sostenibile. Consentita dalla legge. A quel punto è chiaro che ognuno trae le conseguenze o gli si fanno tratti. Però, ripeto, sulla base di un lavoro che è da rispettare, primo, legittimo, secondo, e aggiungo io, guai se non ci fosse, che è quello che fa la stampa, che oggi tocca a Sgarbi e domani tocca a me. Dopo che la stampa si risponde, sulla base di quello che uno dimostra, poi si va avanti. Quindi, se le circostanze fossero confermate, c'è anche un'indagine dell'antitrasto in questo momento, e Sgarbi resistesse, tra virgolette, quello che dice lo si fa, vuol dire che Meloni dovrebbe togliere le deleghe? Trovo bene? Sapete che la nomeno dei sottosegretari e del Presidente del Consiglio è della stessa persona che ritira le deleghe. Quindi non è che Dio gliel'ha data e Guai gliela tocca. Meloni gliela data e Meloni gliela toglie. Se vuole, se riterrà l'esito di questi accertamenti, che le cose sono diverse da come lui dice. Grazie a tutti.